Io ho appena finito di vedere la presentazione di Roberto, sono uscita e poi però prima della porta sono ritornata indietro perché volevo comunicandolarmi con Roberto per il lavoro che ha fatto stamattina e per tutto quello che ha significato per me e credo anche per gli altri miei coetanei. Roberto ha avuto il coraggio di partire e di sperimentare, puoi raccontare a noi italiani che ci sentiamo inferiori o almeno io mi sento inferiore perché in confronto all'America siamo nulla anche a livello geografico, invece siamo tanto perché noi abbiamo la conoscenza e possiamo andare avanti. Io voglio congratularmi con Roberto perché mi ha ispirata e credo che se tutti dicessero alla persona a cui ci ispira o agli altri che ci lasciano un pezzo di loro nella vita un grazie e un complimenti per averlo fatto, tutti faremo molte più cose e ci sentiremo anche meglio. Grazie. Io mi chiamo Sara Niese, faccio ragioneria di Cibonelli a Cuneo, sono al quarto anno e qua siamo nella provincia di Cuneo.